Andrea Baccarini, General Manager dei Raggi Solaris, 21esima vittoria di 24 partite con Argenta, la vetta è sempre più nelle vostre mani, forse adesso la cosa importante è sfruttare il meglio le ultime sei partite? Sì sicuramente la percentuale di vittorie è notevole per essere il primo anno in questa categoria, la vetta adesso è un obiettivo, un sogno assolutamente raggiungibile perché rimangono queste sei partite, questa sera abbiamo fatto il nostro dovere perché non era facile partire con i favori del pronostico e poi comunque mantenersi concentrati, non siamo stati brillantissimi in attacco perché abbiamo segnato solo 51 punti ma per fortuna la difesa ha fatto il suo dovere questa è una costante che ci accompagna dall'inizio dell'anno e anche questa sera 37 punti subiti dimostra che la consistenza e lo spirito che mettono i ragazzi in difesa Ecco quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici che tra l'altro si stanno rubando un po' di punti tra di loro, sabato prossimo trasferta alle ore 21 a Castel San Pietro, i tifosi hanno già detto che saranno numerosi, potrebbe essere uno dei primi match ball Sì sicuramente lo scontro di sabato sera a Castel San Pietro vale doppio perché è contro una diretta inseguitrice che avendo perso ieri sera a Sant'Arcangelo è a sei punti adesso attualmente da noi E quindi è un'ottima occasione per lanciare le nostre ambizioni, non sarà facile perché loro sono una squadra costruita fin dall'inizio per far bene e per vincere questo campionato Ha subito due battute d'arresto consecutive in tre giorni ma sicuramente veniva da un filotto di 10 vittorie consecutive Quindi questo sicuramente non ci deve far rilassare ma anzi loro saranno molto probabilmente agguerriti per riscattarsi davanti al loro pubblico